Con uno sforzo straordinario, la Giunta Comunale mette a punto un'operazione di razionalizzazione delle risorse finanziarie residue ed approva una delibera con la quale assegna ad ANM 5 milioni di euro per la manutenzione degli autobus. Pesanti i disagi registrati nei giorni scorsi per il numero limitato di mezzi in servizio e in attesa dello sblocco dei fondi previsti dal decreto Salva Napoli, il Comune interviene per garantire un servizio adeguato agli utenti. I fondi serviranno all'azienda napoletana di mobilità per l'acquisto dei pezzi di ricambio e consentiranno di riportare gradualmente il trasporto pubblico alla normalità. Negli interventi di razionalizzazione delle risorse da parte del Comune rientra anche la delibera con la quale si assegna ad Asia un contributo pari ad un milione di euro per l'acquisto di otto spazzatrici, moderni automezzi da 4 metri cubi che consentiranno una pulizia più accurata dei tratti di strada interessati. Sono dotate infatti di una lancia idropulitrice per spazzare anche i marciapiedi e fin sotto le autovetture.